Ciao a tutti di assistenza informatico online. Allora, oggi parleremo di un bellissimo argomento che viene insomma in soccorso a tutte quelle persone che non vogliono creare o non riescono a creare, appunto, gli dà proprio fastidio l'idea di andare a creare un account Microsoft online, quindi stiamo parlando di quando si inizializzano tutte quelle nuove macchine oppure quando si va a formattare una macchina per andare a installare il nuovo sistema operativo. Quindi praticamente vediamo come, fra virgolette, bypassare questo problema dell'account Microsoft online, fra virgolette questo fastidioso problemino dell'account Microsoft, perché insomma non tutti sono giovani quelli che utilizzano il computer, quindi può essere pure che c'è qualche persona un pochettino avanti d'età che proprio ha bisogno di essere aiutato di uno giovane perché quando si troverà all'inizio in quel punto magari non riesce a costruirsi una nuova email per l'account Microsoft, quindi insomma là sicuramente magari si può stoppare, soprattutto se non è, diciamo, bravo nel mondo dell'informatico all'utilizzo del PC. Quindi in questo caso, insomma, video adatta a tutti gli utenti, tutte le persone di qualsiasi età, vediamo proprio come scavalcare questo piccolo problemino. Devo dire che questa tecnica non è infallibile, molte volte funziona, però alcune volte non funziona. Quindi voi intanto prendetela come buona e utilizzatela subito se non volete crearvi il vostro account online e creare invece subito un account offline prima di inserire, insomma, qualsiasi email. Devo dire anche che non è detto che tutti abbiano internet, dico quasi sicuramente il 99% della popolazione ha internet, però dico può essere pure che in quel giorno non vi funziona, può essere pure che c'è gente, come ho detto, che non ha internet, quindi fra il non utilizzare completamente, non poter inizializzare, perché si tratta di questo, il vostro computer e invece inizializzarlo in questa maniera offline, cosa dire, potete tentare con questa tecnica di vedere se vi fa saltare questo account. Se invece non ve lo fa saltare, un troppo, insomma, dovete farvi aiutare da qualcuno in famiglia oppure portarlo proprio in un tecnico che magari vi effettuerà la registrazione, magari innanzitutto online per poi subito togliervi dall'online e mettervi con un account offline con il vostro nome. Però non perdiamo tempo e vediamo che si deve fare. Allora, al momento presente di questa schermata, quando il nostro computer, quando noi lo inizializziamo, vi dice che dobbiamo connetterci ad una rete, è proprio il problema sta lì, perché appena noi mettiamo la nostra linea Wi-Fi o LAN, quella che sia, direttamente lui fa creare in automatico un account online, perché se no non fa andare avanti. Prende, manca la famosissima parolina, non ho internet, quella che c'era prima. Quindi è come se ci obbligasse, è un obbligo vero e proprio, insomma, per creare un account online di Microsoft. Ovviamente l'esperienza sarà bellissima, perché essendo online, questo lo potete vedere anche nelle console di gioco e tutto un altro mondo, però abbiamo detto che le cose, magari, quando si possono scegliere un discorso, quando vengono imposte, magari, a molti utenti può dare fastidio. Quindi, in questo caso, cosa si deve fare? In questo caso, dobbiamo andare noi, appena spunta questa dicitura, abbiamo detto, di internet, quindi andare a inserire la chiave di sicurezza del nostro router, oppure andare a inserire il nostro cavettino LAN direttamente dalla connessione, dobbiamo andare a cliccare nella tastiera del tasto maiuscolo più F10 contemporaneamente. Quindi, in questo caso, si aprirà praticamente una schermata che può essere simile a quella del DOS, quindi un eseguibile, dove noi possiamo andare a scrivere gli eseguibili. E apparentemente la frase che dobbiamo andare a scrivere non è altro che OOBE backslash bypass nro. Quindi questa è la stringa. Comunque ve la lascio qui, in modo che per un pochettino, in modo che ve la potete appuntare benissimo in un fogliettino di carta. Questa scritta prende, cosa fa? Questa scritta, e ovviamente dobbiamo dare invio, questa scritta cosa fa? Vi farà riavviare immediatamente la vostra macchina e vi porterà sempre alla stessa schermata, però, come potete vedere, come questa, in aggiunta spunterà quella famosissima parolina in basso a sinistra, non ho internet. Quindi in questo caso, noi andando a cliccare non ho internet, direttamente accediamo con un account scrivendo subito il nome del dispositivo, quindi ci ritroveremo poi a questa terza schermata, quindi saltando proprio quel fassioso account online che obbligatoriamente Microsoft si chiede di eseguire per ristallare il nostro sistema operativo nuovo, bel e pronto pulito. Quindi questa è la procedura che si utilizza già da un paio di anni, che non è infallibile, quindi molte volte funziona, altre volte invece magari dipende il sistema operativo quando è uscito dalla data che è il modello di sistema operativo e vediamo quale aggiornamento c'è, magari qualche volta invece può ritornare alla stessa schermata, quindi in quel caso vi ho detto siete obbligati o a farvi evitare da qualcuno a creare l'account momentaneamente, non vi preoccupate, solo l'online è momentaneamente il tempo di andare a inserire un'email per poi, anche fittizia, per poi andarla a togliere con un account, passando qui da un account locale, quindi offline, oppure portatelo da un tecnico e vi fate aiutare da loro sempre a eseguire questo piccolo passaggio. Spero quindi di avervi fatto conoscere, per chi non già non lo sapesse, questa tecnica OBE viene chiamata, insomma, per chi deve inizializzare la nuova macchina, provate prima, anziché andare a creare, se non volete l'account online e mi fate sapere se va a buon fine. Ciao a tutti!